Oggi in Piemonte 37.000 minori di cui 4.500 in particolari condizioni di disagio sono stati coinvolti dal 2016 nei progetti attivati grazie ai 30 milioni del Fondo di Contrasto alla Povertà Educativa Minorile che vede alleati le fondazioni di origine bancaria con il forum del terzo settore ed è gestito dall'impresa sociale con i bambini. Il dato è stato diffuso oggi all'Eoggi Erreditorino nell'ambito del convegno Bambini Investire sul Presente per un futuro migliore promosso dal forum del terzo settore con il sostegno della consulta delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria. Le organizzazioni coinvolte nei progetti sono state finora oltre 700. E domenica, ricordiamolo, dall'essere...